E' terminato praticamente da un minuto il big match di questa quinta giornata di campionato tra FBC Gravina e Biceglie i gravinesi hanno battuto il Biceglie per 1-0 grazie ad una rete di Mirko Guadaluppi anche miglior in campo davvero tutto per il meglio per il Gravina Sì, siamo contenti per la vittoria, non era facile contro una delle squadre più forti del campionato ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo messo cuore, siamo stati squadra e alla fine il risultato ha ripagato tutto il lavoro che stiamo facendo durante la settimana Gara che si è messa in discesa per il Gravina prima della tua marcatura con l'espulsione di Daiello L'espulsione, però nonostante questo non è stata facile perché loro comunque anche in dieci si difendevano bene siamo riusciti a sbloccarla, peccato alla fine potevamo addirittura fare il 2-0 però alla fine contano i tre punti, siamo veramente contenti Avete sofferto poco anche quest'oggi, non subito nulla da avere la parte del Bicelli e tutto è filato per il verso giusto Sì, contro una grande squadra ci sta anche di soffrire i loro attaccanti loro hanno una squadra molto forte però noi ci siamo comportati bene a livello di squadra ci siamo difesi bene e poi quando abbiamo avuto la possibilità di punirli li abbiamo puniti ti ripeto, stiamo lavorando bene con entusiasmo, è bellissimo giocare davanti a tanta gente e ci teniamo stretto tutto questo calore Vincono il Trastevere e il Potenza ma vince anche il Gravina che mantiene la vetta della classifica sono discorsi che però non poco interessano Sì, sono discorsi soprattutto per i giornalisti, per le statistiche noi guardiamo partita dopo partita, adesso ci godiamo questa domenica poi da martedì ci prevediamo per la prossima partita